Ciao sono Colkenji, oggi siamo nuovamente qui sulla pagina di YouTube come la scorsa settimana, ho visto che il video dello sponsorizzare, no io lo chiamo grazie o roba del genere è andato abbastanza bene e ho ringraziato solo i primi 10, questi qua comunque sono i nuovi primi 10 probabilmente hanno messo qualche mi piace in più questa settimana e infatti ricordo che io ringrazio se riesco ogni settimana i primi 10, cioè quelli che hanno partecipato più intensamente credo nell'ultima settimana o ultimamente credo, non so bene se sia solo l'ultima settimana ma comunque che mi fanno, che sono più attivi sul mio canale, mi sembra il minimo, almeno farvi un minimo di pubblicità anche se probabilmente non so quanti di questi canali sono realmente attivi come video però possiamo guardarli assieme, intanto vedo che ci sono, non ci sono molti iscritti al mio canale però so che sono molto coinvolti, probabilmente mi seguono ma non sono iscritti io comunque li ringrazio, li ringrazio, li ringrazio vediamo un po' chi sono il primo è Alessandro Murano vediamo chi è Alessandro Murano adesso qua, ecco, l'inquadratura va un po' dove vuole lei ok, però abbiamo i video, sono solo video piaciuti Zeb, Favij e quel, anzi non è neanche il Favij ah però c'è, eccolo qua, eccolo il mio video ok allora io ti ringrazio perché vedo che ho messo mi piace anche a questi qua, a quelli lì va bene, va bene, va bene, quindi grazie di farmi crescere e io cerco di farti crescere ma non ci sono video però ti ringrazio perché sei il primissimo e andiamo avanti con Matteo Global Matteo Global anche qui piace vediamo, ecco, infatti c'è due giorni fa ha messo mi piace ah no, questo qua non è il mio, ok, quello è il mio su server probabilmente non so che cosa abbia fatto i miei video probabilmente ha scritto un commento o qualcosa che non mi ricordo che ricordo basta mettere un commento o un mi piace per salire di graduatoria va bene Angel2 vediamo, vediamo, vediamo cosa ha fatto nei miei video anche questo, niente ah, è inglese quindi probabilmente lì sarà scappato qualche volta capita infatti mi capita molto spesso di vedere statuni intensi quindi probabilmente questi qua infatti vediamo se ha fatto qualcosa nei miei video o è stato pure probabilmente lì sarà scappato qualcosa o mi avrà visto su Google Plus perché non so se Google Plus non ho più palida idea comunque video qua ah, ma questo qua ha caricato dei video ecco quindi non ci sarà il mio ma ha caricato dei video un anno fa dieci mesi fa l'ultimo tre mesi fa non so se sia ancora attivo il Lollo Super se volete provare a iscrivervi e seguirlo vedo che fa GTA Seven Day to Die cosa fare sul canale sei pronto mesi fa qualcosa di Minecraft quindi provate a vedere voi poi c'è Vipping Sharma che non ha niente quindi possiamo anche lasciarla Michele Buzzetti Michele Buzzetti anche questo non ha niente però ha ah, ok i video piaciuti molto bene Marco G ecco che è uno dei pochi iscritti ma anche prima però è dal 17 luglio 2013 quindi uno dei primissimi che sta facendo così io non vedo il mio video probabilmente ah no, eccolo qui il mio video eccolo qui di una settimana fa quindi forse ha fatto un commento o ha messo un mi piace Andrea Carinci chi è, chi è, chi è, chi è video, vediamo un post ah, ne ha caricati tre ah, però cinque anni fa quattro anni fa un anno fa quindi non ha niente ma comunque ti ringrazio lo stesso Aureliano Bagattin video mi dispiace se sarà tagliata l'immagine qua ma non penso che interessi molto però pa 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 miei video miei video non ne vedo ah, ok ha messo questo Planet Sai 2 mi ha messo il mi piace va bene ti ringrazio Jacob Bandiera video vediamo cosa ha fatto dei miei video ah, no sta caricando video ah, ok due mesi fa un mese fa cosa ha messo un po' un po' Dark Souls Tribes Warframe eh, se volete guardarlo potete iscrivervi e vedere se caricherà ancora qualcosa o se questo è l'ultimissimo video non lo so Fab Fab intanto sono andato giù si, si sono solo più questi qua tre Fab Fab questo qua è un altro inglese che probabilmente beh, carica canale eh si carica no, non è inglese è italiano pensavo fosse italiano è inglese scusate comunque se volete seguirlo fa Unturned Orc Muff Die Breda Island Scribblenauts l'aveva fatto per 8 mesi fa quindi niente ok Tribe Trine si, ok e quanti iscritti ha? 420 però non è iscritto al mio canale probabilmente ha messo qualcosa un mi piace Raffibella vediamo chi è Raffibella questa qua è proprio solo musica quindi possiamo anche lasciarla stare perché non penso sia neanche italiano non lo so penso di no comunque se avete guardare qualche video carica abbastanza velocemente perché una settimana ogni ogni settimana ha 2-3 video quindi fateci pure un salto è l'ultimo ma non ultimo come Rotsuchelli che non so chi diavolo sia mai visto però mi dice che video piaciuti vediamo se c'è il mio video da qualche parte non vedo il mio video boh non lo so comunque come vedete basta poco perché se anche questi che non hanno messo mi piace da chissà quanto tempo sono tra le prime 10 posizioni quindi se volete farvi conoscere comunque io vi ringrazierò sempre comunque c'è un modo molto semplice basta mettere anche solo un mi piace un commento e starete presto nella in questa categoria quindi se volete farlo bene se no va bene così quindi come sempre io vi ricordo di commentare iscrivervi un bel commento iscrivervi e al prossimo episodio ciao